Oggi abbiamo fatto una importantissima lezione inerente alle dotazioni di sicurezza presenti a bordo. Abbiamo parlato sia delle dotazioni di sicurezza individuali che quelle collettive. Questa lezione è importantissima perché in primis ci dà la possibilità di salvarci la vita sia a noi stessi e salvare anche la vita alle persone presenti a bordo. Inoltre avere una buona conoscenza di tutte le dotazioni di sicurezza presenti ci dà la possibilità di poter noleggiare, prendere, andare in barca con degli amici e avere comunque una consapevolezza di quello che è presente a bordo, di quello che ci deve essere a bordo e di quello che noi dobbiamo andare a controllare prima di mollare gli ormeggi per una navigazione, piccola o lunga che sia. Questa lezione logicamente la ripeteremo più volte, più volte andremo a vedere come utilizzare le dotazioni di sicurezza perché comunque sia l'addestramento è la parte fondamentale. Un buon addestramento sull'utilizzo delle dotazioni ci permette innanzitutto a mantenere e ad avere più tranquillità nel caso in cui dovessimo utilizzarle. Oggi sulla barca abbiamo ascoltato alcuni dei consigli che Simone ha dato a noi oggi, delle cose, come funzionano le cose sulla barca, come si utilizzano le cose, è importante sapere come funzionano le cose nel caso di emergenza, si può osservare la vita, anche la vita, le vite degli atli. Già durante la navigazione i ragazzi sono venuti a conoscenza di quello che noi avevamo a disposizione e non solo a conoscenza ma abbiamo anche utilizzato tutte le noti, le dotazioni di sicurezza individuali. Faccevamo dei turni di solito di due ore l'una, dovevamo essere in due almeno, ci mettevamo dei giubbottini di salvataggio che sono rossi e li potevamo legare con il cordone ombelicarico, anche se ci pensi se uno cade in mare senza quelle, tutto vestito, va a fondo, invece con quelle ti tiri una cordicina e si gonfia. Come si gonfia c'è un filo che è a contatto con l'acqua facendone una lucina che c'è attaccata al giubbottino e quindi possono vederti. E il tuo compagno, come ho ripetuto prima, che è a bordo della barca perché siamo in due, ti vede e quindi avvisa subito tutti gli altri, la barca si ferma e cercano di recuperare. Grazie a tutti!